La vittoria è andata al Chelsea, ma loro c'erano e sono arrivati terzi. Loro sono i ragazzi speciali dell'Olimpia Onlus, che hanno conquistato un riconoscimento per il miglior portiere, Natalino May, per il capo cannoniere, Christian Campus, e quello, manco a dirlo, per la miglior tifoseria. L'occasione è stata la settima edizione del torneo internazionale di calcio a 5 Pepo Gol. La manifestazione, che si è svolta a Cremona e alla quale hanno partecipato 43 squadre speciali, è nata da un'idea dell'attaccante del Milan e della Nazionale Azzurra, Alberto Gilardino. La Pepo Cup è la più grande manifestazione sportiva riservata agli atleti speciali organizzata nella zona. Ha vinto il Chelsea, la società inglese è l'unica nel panorama internazionale ad avere una squadra di calcio in tutte le categorie, compreso il settore dell'handicap mentale. Alla premiazione, con tanto di foto di gruppo, ha partecipato Enzo Iacchetti, l'attore cabarettista ha già promesso al patron dell'Olimpia Onlus, Carlo Magia, che sarà presente per una delle prossime iniziative che lo special Team Sardegna organizzerà nell'isola.